Tornano gli anni 70 a Shopville Granreno. Oggi scopriamo insieme l'anno 1976. Tina Anselmi è la prima donna a diventare ministro nella storia d'Italia. Jobs e Bosniak fondano la Eppol, un'avventura imprenditoriale senza precedenti. Dopo la mela di Newton entra nella storia la mela morsicata. A Esbruck c'è la dodicesima Olimpiade Invernale. Per la prima volta l'Italia vince la Coppa Davis. Al centro spaziale della California giungono le prime fotografie di Marte. L'auto dell'anno è la FIMCA 1307. In TV vanno in onda l'Almanacco del giorno dopo e Sandokan, la tigre della Malessia. Per i più piccoli ci sono le avventure di Barba Papà. E Barba e Barba Papà, che sono poi? Papà e mamma, Barba Papà, con i figli piccoli e grandi. Nei cinema c'è Taxi Driver. Gli Abba cantano Dancing Queen, un classico della disco music. I tormentoni dell'estate sono Non si può morire dentro di Gianni Bella. Se c'è un altro dillo pure in me, non si può morire dentro. E Ramaya, di Afric Simone. Ramaya, Ramaya, amando Ramaya, mi hanno trovato. Voi che li avete vissuti, che ricordi avete degli anni 70? Ma anche voi più giovani, raccontateci cosa vi sarebbe piaciuto vivere di questo fantastico periodo. Nella prossima puntata scopriremo l'anno 1977. E se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti like, commentate e condividete. Gli anni 70 sono tornati, quindi restate sintonizzati. Un bacio da Andrea e alla prossima!